Il rituale Il generale Batoglio ha dato via Ma ha piegato quello dell'istituto Luce in ultimo Che roba pazzesca Vuoi andare Pizza te la senti? Si caro E fa la voce da La tenore La tenore Arcogalli E' dato via non c'è Una sola grande parola Vedi un po' estera Ormai siamo in Europa E' certo E' venerdì E' venerdì E' venerdì E' venerdì Come stai?